What's up bellissimi benvenuti a questo terzo vlog a dubai Oggi è il nostro terzo giorno come vedete ho ceduto alla tentazione e ho fatto anch'io il tamarro con questo specie come si chiama? Diciamo che allora la mia faccia mi avvantaggia quindi potrei essere scambiato benissimo per uno di loro Ma che si chiama? Allora il gutra e il velo, poi c'è il gaffia che è la pappalina e la galla e la tassanina E' buono e niente quindi la giornata inizia bella sobria così Oggi andiamo a Marina a vedere il Burj Al Arab e a vedere un po' insomma un po' di cose e niente Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Grazie a tutti Allora, siamo a prendere il tram e siamo in questa bruttissima stazione con l'aria condizionata, proprio sporca, brutta, altro che Milano Il tram qua è proprio brutto, bruttissimo, schifo, guardate, è proprio tutto sporco, tutto caldo, proprio no, mi piace Grazie a tutti Grazie a tutti André Cosa ti hanno dato di resto? 10 monete da 1 La macchinetta cosa ti hanno dato di resto? 10 monete da 1 Grande André, puoi andare sugli autoscontri Bello eh Siamo finalmente arrivati in spiaggia Questo qua è il Purj Al Arab Questo è il tanto fish Devo dire che Sì, mi aspettavo peggio onestamente Da Dubai, invece le spiagge sono Bastante belle Mamma mia, lo ci sta Ciao 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 Ciao